gesù celia va a scuola dalle suore e ha nove anni frequenta una scuola cattolica gestita dalle suore carmelitane la scuola è difficile e c'è moltissimo da studiare però è una delle migliori scuole del piemonte e perciò celia è orgogliosa di essere una delle studentesse di questo istituto prestigioso prima di ogni lezione i bambini devono andare in cappella per la messa e si prega anche il pomeriggio prima di tornare a casa in ogni classe c'è un crocifisso proprio dietro alla cattedra sulla sommità della lavagna i crocifissi sono molto belli e di legno con il gesù in smalto bianco montato sopra prima di lasciare le aule dopo le lezioni gli alunni pregano rivolgendosi al crocifisso sopra la lavagna e poi si va a casa un giorno suore irene entra in classe per la lezione di aritmetica dopo che le bambine sono tornate dalla messa matutina e comincia la sua lezione dopo un po' si ferma e guarda le bambine con gli occhi indagatori perché ridete bambini cosa succede nessuno dice niente e la classe è totalmente silenziosa allora la suora continua la sua lezione di nuovo poi si gira ancora vi ho sentito ridere di nuovo che cosa c'è perché non siete concentrati chiede la suora spazientita poi vede dei bambini che guardano in alto e si gira a guardare chi ha fatto questo grida arrabbiata il grande crocifisso di legno è ancora al suo posto appeso al muro dietro la cattedra però il bel gesù di smalto bianco manca forse è caduto ma questo non è tutto infatti qualcuno ha attaccato un post-it al posto di gesù con scritto torno subito tutti sanno che le suore non credono ai miracoli e soprattutto che non hanno il senso dell'umorismo infatti suor irene si precipita a chiamare la madre superiora del collegio suor nicce come un militare entra nella classe e mette tutte le bambine sull'attenti poi chiede chi ha attaccato il post-it sul crocifisso ma nessuno risponde alla fine tutte le bambine rimangono in classe tutto il giorno per punizione non si sa chi è il colpevole ma probabilmente non è stato nessuno probabilmente gesù ha più senso dell'umorismo di queste rigide suore